E si comincia, si comincia, open bag, mettiamoci, le altre bende, ma si, raccogliamole pure, che c'è qua dentro, un, ora, ma può essere, mai che io debba andare. A dover, materialmente, materialmente. A dover, materialmente, un, ora, ma, 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 ma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molto pericolose in questo gioco. Grazie a tutti. Un piede di porco... Devo stare di un attento al castellino. Oh, ma se è accaduto qua muoio cento volte e non una. Che cos'è questo? Open Alice Pack che sarà vuoto. Non voglio un Alice Pack, voglio un Coyote Pack. Così che si mangio... Di nuovo, io qua ho troppe bande, ma che ci facciano tutte queste bande? Sono un pirla. Mamma mia, quante bande ho neanche... Mi ero concentrato così tanto sul cibo economizzare che non mi ero accorto di avere duemila tende. Un coltello... 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 non credo si possa andare su quella torre ho delle brutte esperienze vicino a noi ai bordi perchè l'altra volta ah si può andare pure sulle mura da nord ovest si e vabbè siamo qua che fa non ci andiamo gear ok vorrei io putzare i roadflare quasi finiti va bene non è toscale per le mura a nord ovest non è toscale per le mura non è toscale per le mura non riesca la vera non riesca la vera resta si la vedo si la vedo un'altra borraccia un'altra borraccia open bag buttiamo una di queste e piemoci anche la la borraccia la borraccia la borraccia poi la andiamo a riempire ah questo è praticamente una scala una scala che porta alla scala va bene allora ci prendiamo pure questa acqua e buttiamo un'altra benda sto lasciando io la scia di band ora il problema qual è è che siamo andati pure al castello del diavolo e non solo siamo ancora vivi sono ancora vivo ma non abbiamo neanche trovato qualcosa di meraviglioso e speciale ora da qua mi fermo un istante mi distendo e interrompo la registrazione perché voglio vedere quante ore di filmato ho registrato fino ad ora ho registrato fino ad ora ho registrato fino ad ora